Ciao creatura, io sono Mecatea Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai Asmr. Premessa, volevo fare il video, come qualche anno fa, dei cataloghi da comparare, quello di Lidl e quello di Aldi per quanto riguarda prodotti di Halloween, però qualcuno ha deciso, la volta che metto gli occhiali che mi sembra di vedermi soffocata, chi mi segue su Instagram già sa tutto e se non l'ho ancora fatto mi trovi con il nome Mecatea Splendente, mi raccomando, seguimi così non ti perdi queste chicche. Sapete che insomma il catalogo, quello con proprio gli oggetti, cioè non c'erano oggetti perché ci sono questa settimana che ho visto, proprio verso Halloween, c'era il cibo di Halloween, ma non ho trovato il volantino riferito a quello e io volevo vedere il volantino con te, ma volevo vedere quello cartaceo perché volendo si può andare nell'app a vedere quell'altro, ma non è la stessa cosa. Poi sono andata ad Aldi a prendere il volantino e il dialoghi non c'era, niente, niente, neanche per sbaglio. E quindi ho detto, no, non posso farlo questo video, era molto bello e rilassante, ma non posso farlo. Allora, cosa facciamo? Cosa facciamo? Mi mette abbastanza a disagio e quindi lo farò come challenge. di andare direttamente al supermercato, però non si può fare il paragone Aldi al Lidl perché di Aldi non c'è niente. Allora ho pensato, vado in due negozi e riprendo con la mia videocamera che è abbastanza grande e visibile, non l'action cam perché fa le riprese tutte e non ci piacciono, non ci fanno vomitare, letteralmente, perché troppo mosso, sembra di stare in barca. Quindi ho detto, vado con la mia videocamera anche se tutti mi guarderanno male o mi guarderanno, mi guarderanno. Ecco, basta guardarmi per darmi fastidio e quindi andrò con la mia videocamera a riprendere che cosa trovo di Halloween e lo guardiamo insieme. Ce la farò? Boh! Allora come primo negozio penso che andremo da Pepco e come secondo negozio andremo a Lidl perché in realtà non ho trovato il volantino ma ci sono i prodotti di cibo che ho visto tanti dell'anno scorso anche però un po' andiamo a vedere cosa trovo nella mia filiale del mio paese e vediamo da Pepco perché online, su TikTok e altri social ho visto delle cose super belle che mi piacerebbe acquistare per esempio una tazza che lì nel video c'era col prezzo 1,50 euro questa tazza trasparente di vetro con solo l'outline cioè il disegno, solo il contorno bianco di queste zucchette è super autunnale e vabbè non erano proprio zucche Jack o Lantern però erano zucche quindi ci sta oppure ho visto che c'era sempre un'altra tazza con una zucca semplice, easy, senza tante cose che va bene sia per Halloween che comunque per tutto l'ottunno o il periodo autunnale o anche dopo perché comunque era bella penso che quella venga a 3 euro se la trovo appunto la prendo quindi niente, andiamo insieme io e te creatura, cioè vado da sola andiamo io e te a sconfiggere anche questo disagio della gente che mi guarda finché filmo che non sto facendo nulla di male però la gente è sempre un po', sempre un po', ok quindi noi andiamo insieme a farci i cavoli nostri perché è giusto ti ricordo di iscriverti al mio canale lasciare tanti commenti e soprattutto tanti like sono like a te del futuro io so già quello che è successo e volevo raccontarti questa cosa sono arrivata lì da Pepco ho fatto il video dell'entrata e lì subito all'entrata c'erano due commesse che stavano sistemando delle cose di Natale vabbè che dopo, io non ho ripreso le cose di Natale ma se vuoi per Natale ci vado a fare un giretto a riprendere qualcosina vabbè, sono andata e sono entrata con la videocamera spenta tenuta in mano perché appunto c'erano persone e io non ci tenevo a riprendere le persone ci tenevo a riprendere solo le cose di Halloween come mi hanno visto, mi hanno vissuto tutti specialmente queste due commesse che c'erano proprio davanti che mi stavano guardando la videocamera perché la mia videocamera è abbastanza grossa, cioè è tipo un cilindro e però c'è lo schermetto che esce fuori tutta nera questo schermetto che esce fuori quindi è una di quelle videocamere vecchie la notti subito la notti subito perché non è che passi inosservato come un telefono che sembra che stai messaggiando o un action cam che magari è piccolino della schiaffi qua e nessuno la nota e allora le ho guardate e ho detto vinciamo ogni disagio faccio buongiorno faccio delle riprese per quanto riguarda i prodotti di Halloween e la cassiera sembrava scesa da Marte come se era anche giovane come se non esistessero i social, il tiktok non è mai successo come non è mai successo cioè non è mai successo che qualcuno te lo chiedesse forse intendevi però da lei sembrava che non è mai successo che da Pepco abbiano fatto delle riprese sui prodotti cioè ma da che mondo è mondo ovunque fanno riprese cioè le sapevo che c'erano oggetti di Halloween perché ho visto un video su tiktok di Pepco cioè quindi parliamo ma probabilmente non è mai successo a lei in quel negozio o forse non se ne è mai accorta perché secondo me tanti riprendono col telefono e loro non se ne accorgono comunque io sono stata corretta e glielo ho chiesto faccia face to face e mi fa non è mai successo comunque va bene ah posto hai il tuo permesso e non è mai successo dove cazzarolo vivi vabbè tutti liacuano la mia oh mio dio cosa sta facendo non stavo spacciando c'è una videocamera non so che tutti adesso riprendono col telefono che è più discreto però voglio dire e quindi niente dopo questa cosa per il resto è andato tutto bene all'idea quello del mio paese nessuno mi dice mai niente perché lì mi conoscono sono stata a 7 anni con i capelli verdi quindi cosa c'è di strano che potrei mai fare così cosa faccio va bene anche il giorno che sono andata a prendere il debito anche sono entrata senza comprare niente ho detto a tutti permesso 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 in cassa e dopo c'era la cassina gli ho detto sono solo qui per prendere il volantino e lei non c'è come non c'è quindi ho notato che i problemi ce li facciamo più noi stessi e se tu vuoi fare qualcosa e la gente ti vede convinta perché sono andata a filmare Little molto più convinta di Pepco perché Pepco era diciamo prima volta in pubblico con questa videocamera senza che facessi di nascosto e invece all'Italia l'ero già più lanciata perché è stato subito dopo è uno stato che se tu fai una cosa anche se non potresti farla però la fai in modo convinto alla gente non gliene frega niente perché ti vede lì convinta e quindi pensa che tu abbia il diritto di fare quella cosa lì ma questo vale per tante cose ok se non ci facciamo i problemi facciamo le cose magari ci sarà qualcuno che ti guarderà male ma se tu sarai convinto di ciò che stai facendo nessuno ti fermerà e così è successo all'Italia tranquilla mi hai fatto tutte le mie belle riprese comunque ti lascio al video buona visione eccoci arrivati da Pepco c'erano questi pantaloni e maglia abbinati della sposa cadavere a 9 euro la maglia carina però 9 euro per una maglia mi sembra eccessivo i pantaloni tipo della tutta della sposa cadavere a 10 euro carini ma non li avrei mai acquistati infatti non li ho acquistati poi però le cose più belle erano il reparto bambino bambini questo berrettino a 5 euro 50 con il deschio e con abbinati anche i guantini scheletrici poi c'erano altre maglie tema halloween prezzo wow e sì il reparto bambini sempre anche questi che vediamo qui qui mi sono schiantata contro qualcosa come il mio solito infatti c'era ripresa che si è venuta mossa all'improvviso altre cose sempre il reparto bambini che poi dopo dipende dalle taglie si nominavano al buio queste non c'entrano niente con Halloween ma che belle voglio essere bambina per poterle mettere così giurassi cord e andiamo al reparto di Halloween veloce carrellata poi andiamo a vedere nel dettaglio ogni oggetto perché ho detto voglio prendermelo con calma e guardarli insieme allora questo è per cucinare per fare degli stampini insomma poi c'è quella lì per la pasta bellissimo questo non l'avevo mai visto dal vivo l'avevo visto su Aliexpress tempo fa una bella marisa una spatola in silicone poi i capo i pirottini questi bellissimi cucchiai di Halloween guarda la chicca hanno anche la charms mamma mia che mi dispiacerebbe usarli sono troppo belli bellissimi a 5 euro peccato ci fossero solo i cucchiai poi questa tazza questa tazza con questo scheletro arancione no scheletro teschio che sicuramente si illuminava faceva qualche lucetta perché aveva le batterie sotto e un pulsantino a 3 euro però tutto plasticone quindi non mi piace tanto l'idea di comprarlo poi c'è questo portabiscotti questa tazza con la fatta a strega con anche il coperchietto poi c'era questo classicone c'era anche da tiger tempo fa il teschio da dipingere ma questi sono quelli di tiger o sbaglio le penne sono 2 euro a me sono quelli di tiger poi quel cosa di legno queste lucini le luci però non so che colore siano magari c'è scritto però non lo so comunque questa bella lanterna era leggerissima super carina poi c'era questa cosa che mi ha incuriosito ma non ho mica capito cos'è c'è scritto per caso let decorativo decorazione vabbè poi vediamo cosa c'è qui ah quella specie di gnomita giardino non lo so ho visto ci sono anche versioni natalizia qui ce ne sono tanti forse ci sono dei fermaporte non lo so comunque queste candele bellissime c'erano anche a little mille anni fa quelle sanguinanti poi varie decorazioni abbiamo anche degli stickers a 1 euro e 30 carini dai molto anni 90 poi c'è questo led boo a 6 euro fa molto tiger anche questo devo dire poi ci sono i vari trucchi di Halloween con gli stencil i palloncini parrucche varie e costumi di Halloween che vanno bene anche per carnevale soliti scheletri insomma dei grandi classici poi maschere e ho trovato le cannucce con diverse decorazioni a 1 euro e 30 cioè hanno sempre i ragnetti però sono di colori diversi i bicchieri con le mummie sia bianche che arancioni a 1 euro poi ci sono tanti i prezzini ci sono anche bianche che sono abbinate poi ai piattini eccoli qua i piattini anche se in realtà non saranno tutte i mummie poi c'erano il reparto animali questi accessori per animali carinissimi perfino anche i sacchettini della pupù versione Halloween vestitino per cani o gatti dipende insomma classicone la felpa con lo scheletro poi c'erano tanti pupazzi per cani principalmente perché il mio gatto non usa i pupazzetti sì in realtà ne ha uno ma ha il catnip dentro 4 euro carinissimo non lo sarei preso per me qua non capivo se era per ali mi sembrava una specie di scopa ma non ne sono certa vabbè poi vediamo un po' cosa c'è tema Halloween tema Halloween eccoci qua queste ossa con queste facce così questo occhio con i piedi e una zucca con i piedi carinissimo questa con il nasino verde molto cute sui 3 euro poi siamo catapultati a Lidl e troviamo le patatine che c'erano anche l'anno scorso buone queste me le ricordo erano buone con queste figure di Halloween poi cerco di mostrare bene anche i prezzi c'è questo scary box poi il mix di caramelle gommose vediamole bene del dettaglio allora 1 euro 29 con le ossa carine aspetta che sistemo la confezione a sour sono aspre poi sempre 1 euro 29 mix caramelle gommose queste qui scary mix non si capisce bene che forme abbiano poi classiconi e lecca lecca al cioccolato ci sono sempre questi non li ho mai comprati perché è solo cioccolato niente di che un altro Halloween mix caramelle a 3 euro 49 e della trolley sweet and sour e si insomma sono quei mix carini che hanno anche normalmente di figure non di Halloween poi caramelle gommose 1 euro 49 abbiamo i classici occhi trolley poi qui c'è una novità teschio con caramelle non ne erano rimasti tanti c'era solo la zucchetta e il teschietto verde poi a 5 euro 99 altri teschi con caramelle e c'era rimasto solo verde però alla fine ho visto che c'erano delle cioccolate delle caramelle si non non mi ispiravano e le caramelle costo frutto 1 euro 29 queste qui che però sono tipo goliador credo e caramelle Dracula classicone 1 euro 29 quelle con la bocca la dentiera da vampiro e poi queste che c'erano ogni anno le caramelle quelle a forma di ragno che sono proprio brutte ma belle allo stesso tempo caramelle gommose quelle le tarantula poi abbiamo questo contenitore molto carino con un mix di caramelle a forma di zucca 3 euro 49 e invece il contenitore a forma di teschio ho notato che ce ne erano di due tipi in quel negozio lì con occhi diversi mix sempre di caramelle all'interno poi andiamo a vedere un euro 49 abbiamo i biscotti quelli lì con gli smarties sono i cookies con gli smarties qui abbiamo i mellows che c'erano anche gli altri anni poi qua che cosa abbiamo le decorazioni di zucchero per torte occhi mummie cose varie poi i tovaglioli i bicchieri come da pepco abbinati sono qui che sono monocolore carini però quelli viola poi altre caramelle gommose ma questa volta dei mignos vediamoli più nel dettaglio non si capisce molto perché non riesco a vedere come sono fatti dentro poi ci sono i cioccolatini questi sono i biscotti a volte il prezzo non corrisponde alla posizione al quale si vede sotto il prodotto e i biscotti io me li ricordavo con la confezione più grande onestamente il mix di arachidi è 1,49€ quelle sono buone le figure di cioccolato come le monete di cioccolato ma versione di Halloween con gli occhi carini questi qua i cioccolatini al latte 1,79€ c'è ripieno che voi sappiate c'è un ripieno morbido perché se è così li comprerò qua ci sono le figure di cioccolato 1,79€ però guarda che schifo le avevano rubate aperte non lo so erano rimasti praticamente solo i fantasmini intatti che delusione persone incivili poi la solita pasta tricolore è 1,29€ di Halloween già ogni anno e qua i snack di mais ha vari gusti allora questo è il gusto paprika quello verde ha il ketchup e poi ne avevo intravisto uno blu viola che è al sale marino se non ricordo vediamo voglio confermare la mia traduzione allora dov'è l'italiano snack con sale marino sì sale inglese e qui c'è popcorn caramellati quelli lì grossi sono buonissimi però io preferisco quelli al burro poi ultime cose nel reparto frigo queste ci sono ogni anno quello che posso dire è il più buono di tutti tra queste cose qui sono quelle crocchette di zucca buonissime solite pizze niente di nuovo insomma un po' diludente devo dire comunque questo è quello che ho trovato in questi negozi e chi sono i tuoi cosa hai trovato creatura spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti